2, 1, booster ignition, and the final lift off of Discovery, a tribute to the dedication, hard work and pride of America's space shuttle team. The shuttle is clear to the tower. 3, 2, 1, booster ignition, and the final lift off of Discovery. Ragazzi abbiamo appena effettuato l'analisi tecnica e quindi tutta quanta la price action per quanto riguarda Bitcoin. Penso che non si debba aggiungere altro e che sia abbastanza eloquente il filmato che abbiamo visionato. Guardate come una volta superata questa resistenza storica a circa 20.000 dollari, come Bitcoin abbia distrutto, annientato completamente quella zona di prezzo. Si è arrivato qui a 30.000, l'ha assaggiata a pochi minuti e dice che faccio supero o non supero ma si distruggiamolo. E adesso insomma ragazzi, mentre sto registrando il video, Bitcoin ho visto oscillare fra 32.240 dollari e 32.750 dollari. Veramente incredibile e vorrei qui esaminare molte cose, quindi seguitemi fino alla fine perché nulla è casuale. Cosa sta accadendo? Come mai sta crescendo così tanto? Va bene la speculazione ma chi sta mettendo qui i soldi? Perché sta accadendo tutto quanto questo? Cosa possiamo aspettarci? Beh ragazzi, innanzitutto qui le notizie si susseguono di un'ora in ora, infatti qua si parla di Bitcoin, come una notizia molto importante su Cointelegraph. Tre ore fa Bitcoin arriva a 30.000 dollari. Vediamo qui ragazzi, c'è addirittura un altro titolo subito che è dovuto uscire poche ore dopo. Il prezzo del Bitcoin sale rapidamente oltre 31.550. Adesso bisognerebbe aggiornarlo perché, ripeto, l'ho visto sfiorare i 33.000 dollari ragazzi. Vediamo qui anche delle affermazioni di personaggi importanti come l'analista Willy Woo che praticamente ci dice che se pianificate di holdare Bitcoin a lungo termine non state a contare gli spiccioli. Io questo direi in generale di farlo anche per dire sul mercato azionario. Quando mi dite che voglio holdare l'S&P 500 per 30 anni o comunque degli asset che nel lungo termine dovranno sempre crescere, è inutile contare gli spiccioli. Ovviamente ragazzi, come sempre, tutto quanto quello che vedete non rappresenta un consiglio finanziario. Io non vi sto qui a dire o a affermare di fare delle operazioni in Bitcoin, per carità, niente di tutto quanto questo. Rappresenta un consiglio finanziario. Ci troviamo in uno degli asset più speculativi della storia. A me piace tantissimo, ma ognuno deve fare le sue, diciamo, deve trarre le sue conclusioni ed effettuare i suoi studi. Quindi andando avanti, qui dice anche non vi importerà di aver perso qualche migliaio di dollari a causa di un'entrata non perfetta, quando fra un anno il prezzo sarà di 100.000, 200.000 o persino 300.000 dollari. Sono le sue affermazioni. Dunque, andiamo avanti. Qua ci dice, ci racconta come siano stati distrutti coloro che pensano di fare short sulle Bitcoin. Ragazzi, cioè ancora la gente che si improvvisa a fare queste follie, veramente, come si fa? Come si fa? Si rischia solo di bruciare milioni e milioni di dollari. Infatti, ecco qui, soltanto su BitMEX di Shorter hanno perso 10 milioni di dollari, ragazzi. Cioè, stiamo scommettendo praticamente contro l'asset che si trova in una situazione di iper bullish. Abbiamo già visto cosa ha fatto negli anni passati, seguendo quello che era il suo ciclo. Cioè, io dico sempre, non mettiamoci contro un treno in corsa. Qui, ragazzi, è veramente contro lo Space Shuttle, come vi dicevo prima. Cioè, rischiamo di essere ridotti in molecole, proprio di essere atomizzati. Quindi, massima attenzione. Bene, andiamoci qua a vedere in questa slide, per quanto riguarda, insomma, la remunerazione derivante dagli halving. Qui, in realtà, stiamo un po' più avanti nel tempo, ma va benissimo lo stesso osservarla così. Praticamente, l'halving ci dice che ogni 4 anni circa, i miners, coloro che risolvono continuamente l'algoritmo e tengono in piedi tutto quanto il sistema, vengono remunerati per una risoluzione del blocco con TOT Bitcoin. Ogni 4 anni circa si vanno a dimezzare queste remunerazioni. Infatti, qua c'è stato l'halving, il dimezzamento, circa maggio 2020, e siamo passati da 12.5 a 6.25 di remunerazione per blocco risolto. Vedete, andato indietro nel tempo, vi erano delle unità doppie. Quindi, ad oggi, si è calcolato che i miners in giro non riescano a produrre più di 900 Bitcoin al giorno. E vista la richiesta attuale, si tratta veramente di un numero irrisorio. Quindi, stiamo andando un po' in crisi di offerta. Non sono... non vi è una sorta di liquidità, o meglio, non che non si riesce a vendere, non si riesce più a comprare, perché dall'altra parte non c'è nessuno che te lo vuole più vendere. Lo vogliono tutti quanti acquistare in questo momento. Sta accadendo il contrario di quello che era successo in tutti i mercati finanziari a febbraio-marzo, quando la crisi, no, di liquidità, praticamente ci diceva che nessuno riusciva più a vendere a un prezzo buono, no? Perché tutti volevano vendere, nessuno voleva comprare, vi erano richiami di margine, vi era quindi mancanza di liquidità in alcuni conti e lì è crollato tutto. Ora, è tutto un fenomeno inverso, qui sul Bitcoin. Ma vediamo altre notizie importanti, ma man mano che scorriamo vedremo cose sempre più interessanti, ragazzi. Ora, come mai sta accadendo tutto quanto questo? Ok, ci sono tanti che credono in questa criptovaluta, tantissimi holders, youtubers che la spingono, il Bitcoin sta seguendo un suo ciclo e lo sta rispettando, banche si sono aperte, diciamo, nei loro confronti, case di investimento, siccome anche analisti finanziari, una volta era il mal assoluto, invece adesso si comincia a dire di inserirlo nei portafogli e così via. Ma in realtà vi sono una serie di notizie che stanno alimentando, che stanno accelerando questo fenomeno, che stanno veramente creando un boost, ragazzi. E probabilmente, se continuo così, potrebbe anche andare oltre le più rose previsioni, perché sono tutti quanti elementi nuovi che nessuno aveva preso in considerazione, come nessuno aveva riflettuto sulla pandemia. e quindi chiunque avrebbe scommesso che difficilmente avremmo rivisto Bitcoin a sotto i 5.000, a 4.000 dollari, che andava verso i 3 quest'anno, perché comunque era l'anno dell'halving, sarebbe dovuto aumentare. Molti magari si aspettavano che si potesse riavvicinare ai 20.000, che sarebbe stato indeciso, ma nessuno che avesse un'accelerazione così spaventosa e prepotente, e addirittura potrebbe aumentare quelle che erano le previsioni, perché stanno entrando in massa veramente tantissime società, aziende. Cioè si sta creando un ecosistema attorno a Bitcoin incredibile. Ad esempio qui PayPal ha aperto alle criptovalute, quindi il Bitcoin sarà accettato per i pagamenti. Questo è un articolo del sole di 24 ore, il 21 ottobre 2020, ora qui ci spostiamo su PayPal e vediamo come ci dica subito che adesso possiamo scoprire le criptovalute nella nostra applicazione PayPal, eccetera, eccetera. Quindi sono scambiabili, acquistabili, insomma, bisogna tutta una serie di servizi legati a Bitcoin e alle criptovalute. E questo apre a 350 milioni di utenti, cioè veramente incredibile, la possibilità insomma di avere a che fare con Bitcoin. Ora poi andiamo qui a scorrere un po' di notizie e vediamo una marea di società. E' chiaro che sono spesso legate al fintech, legate in maniera particolare a questa criptovaluta, altre volte magari assolutamente no, non in maniera importante e diretta. Però quello che vi voglio dire, ci sono tante società, anche quotate in borsa, molto importanti, in forte crescita, che stanno sulla bocca di tutti, che stanno investendo fortemente in Bitcoin. Alcuni stanno proprio spostando i propri asset. Non dico tutti, alcuni sono una parte, comunque dice, ok, non teniamoli soltanto in questi beni, non teniamoli in dollari, spostiamoli in Bitcoin. Quindi, spostiamoci ancora qui, MicroStrategy continua a comprare, ora possiede più Bitcoin del governo statunitense. Vi dico ragazzi, ci sono governi che possiedono Bitcoin. Una volta ne parlavano malissimo, però intanto hanno cominciato ad accumularli. Vediamo anche qui un gigante delle assicurazioni, MassMutual, che sta comprando, ha acquistato 100 milioni di dollari ovviamente, non di pezzi, perché non esistono 100 milioni di Bitcoin, no? Quindi 100 milioni in Bitcoin. Ovviamente sono limitatissime i pezzi disponibili, ragazzi, di Bitcoin. Ora lo vedremo. Vi è una max supply, cioè non ce ne potranno mai essere più di 21 milioni, ma in realtà 17-18 milioni perché 2-3 milioni sono andati persi quando nessuno immaginava che avrebbe dovuto tenerli e costudirli gelosamente. Quindi sono andati perduti nei meandri di hard disk che ora si trovano, chissà, distrutti o in qualche discarica. E questa è un'altra notizia importante, quindi addirittura questo gigante. Ancora Skybridge, che ha investito 182 milioni in Bitcoin. E quindi, ragazzi, ovviamente c'è una corsa all'acquisto di Bitcoin, ma sapete che dico, questa slide ve la faccio vedere fra un po'. Vediamo anche qui. Elon Musk di Tesla apre Bitcoin, questo è un attivo di investire oggi, qualche giorno fa, diciamo un favore da mille miliardi agli azionisti. Allora, apre significa che non sta investendo in Bitcoin, ma si sta aprendo veramente la possibilità, sta pensando di spostare gli assets o quantomeno una parte di essi in Bitcoin, perché potrebbero rivalutarsi, no, di parecchi punti percentuali, magari se si sbrigano un più 200, un più 300%. E' chiaro, non dipende tutto quanto da lui, ragazzi, cioè, ok, è il fondatore, ma è una società per azioni, ha tutte quante, ha una sovrastruttura, non è che lui arriva, domani decide, automaticamente si investe in Bitcoin. No, è chiaro, vi sono tutte quante delle regole da rispettare, c'è un consiglio di amministrazione, insomma, così via, tanti pezzi grossi, diciamo così, devono riunirsi e decidere attorno a un tavolo. Ma andiamo ancora avanti, sì, qui vi sono dei collegamenti con Elon Musk, sempre di investire con oggi, era un articolo correlato, perché sta diventando praticamente uno dei più ricchi al mondo, grazie alla capitalizzazione della sua azienda, oggi è secondo soltanto a Bezos, quindi questo visionario ha fatto delle cose incredibili e anche la sua ricchezza è arrivata a dei numeri stratosferici, adesso sta per entrare anche l'azienda nell'S&P 500, quindi per entrare l'entrata in termini di capitalizzazione, oggi diciamo non ci sei, domani ci sei all'interno dell'indice, più incredibile tutta quanta la storia. Anche un altro articoletto secondo me interessante è questo della VanEck, so che tanti di voi conoscono questa casa, perché offre degli ETF molto particolari, famosissimo ad esempio, quello legato ai videogames, agli sports, eccetera, eccetera, ma hanno tantissimi prodotti di nicchia, o soluzioni o costruzioni molto particolari e continuano a portarne di nuovi. Loro stanno cercando di fare approvare dalla SEC un ETF, perché ci sono adesso dei prodotti, ETF, ETP, ETN, ci sono dei prodotti per acquistare Bitcoin, e va bene, di quella tipologia lì, ma affinché non sbarca, diciamo, regolamentato e approvato, negli Stati Uniti d'America, non possiamo veramente affermare, no, della presenza di un vero e grande ETF relativo a Bitcoin. Lì sarebbe un'ennesima svolta, potrebbero andare ad affluire chissà quanti capitali per gli investitori, allora sì che comincerebbe anche tramite quella soluzione a far parte di un portafoglio. Alcuni di voi mi chiedono come utilizzare questi strumenti, se vanno bene. Ragazzi, andateli ad approfondire, guardate come vengono custoditi, se vengono realmente fisicamente acquistati questi Bitcoin, e poi, insomma, se sono custoditi in una certa maniera, se bisogna delle assicurazioni, insomma, vi ricordatevi che il vero padrone di Bitcoin è colui che lo possiede, quindi colui che veramente ce l'ha e ne custodisce le chiavi private. Quindi potrebbe essere sempre, no, preferibile acquistarlo direttamente tramite un exchange e andarlo subito a trasferire in un wallet privato, soprattutto in un hard wallet, e custodirlo gelosamente. Così saremo sempre noi i proprietari del Bitcoin, anche se un exchange fallisce, anche se un governo ti vieda Bitcoin, tu, diciamo, ci stai, fai parte di quel governo lì, non sei cittadino, se una casa di investimento fallisce, era uno scamato dei problemi, non riesce a recuperare il tuo Bitcoin in qualche maniera lì, non li custodiva, li hanno rubati, non aveva le assicurazioni, uno deve anche pensare alle cose più incredibili che sono poi accadute in passato, invece se uno lo custodisce gelosamente, poi in qualche modo ne rientra, ne dispone, ecco, magari riuscirà anche se gli servirà di convertirlo in valute fiat, oppure se lo tiene così lo scambierà con dei beni, diciamo, quella è una soluzione insomma che a me piace sempre, anche lì dovete effettuare i vostri studi e capire come praticare il tutto, perché altrimenti rischiate di fare solo danni, di farvelo rubare o di perderlo, insomma, no? Mi raccomando, non state lì a sbanderare, oh bitcoin, queste sono le mie chiavi, no, non funziona così, e ora concludiamo andando a vedere questo grafico, vi voglio dimostrare che non ci sono bitcoin in circolazione, cioè noi abbiamo visto veramente comprarle a centinaia, perché ci sono milioni e milioni di dollari investiti da società, vediamo se riusciamo a zoomare un po', ecco qui ragazzi, allora qui con la linea azzurra cerchiamo qui su una parte di sinistra di vedere quella che è la disponibilità di pezzi, no, di bitcoin, ma sono completamente illiquidi, cioè questa è tutta blu, questa è tutta una parte illiquida, perché tantissimi sono holder, cioè si sa, si vede che i wallet privati, no, cioè i wallet privati, i wallet in generale, non, perché ci sono delle chiavi pubbliche, no, che servono per riceverli, quindi ci sono tutti gli indirizzi, no, di riferimento e sono immobili, cioè il bitcoin viene conservato, quindi per vedere qual è la parte liquida scambiata dobbiamo scendere qui giù, è chiaro abbiamo una parte altamente liquida, tutta quanta quella che si fa nell'exchange, una parte un po' meno liquida, questa qui in arancione, e che magari sono tutti quanti gli over the counter, quindi gli OTC, sono scambiati, quindi non direttamente sugli exchange, ma solo una piccola parte dei bitcoin esistenti è liquida, poi abbiamo detto riduciamo di qualche milione i pezzi disponibili, perché sono stati persi, i miners ne producono solo 900 al giorno, ergo ragazzi non ci sono bitcoin, non ci sono bitcoin, è chiaro che se li vuole comprare un Gianluca qualsiasi, se li vuoi comprare tu che mi stai ascoltando, c'è il bitcoin, cioè squadra 32.000 lo prendi a 32.000 fine, perché? perché non hai una massa monetaria gigantesca, ma se vuoi entrare a gamba tesa, perché hai miliardi, vuoi investire una parte buona, tu rischi di vedere bitcoin a 32.000, ma se fai un ingresso importante, magari ha un prezzo meglio d'acquisto di 40.000, cioè rischi di portare tantissimo sul prezzo, perché dall'altra parte non trovi tutta la liquidità che serve, cioè non trovi un numero di bitcoin disponibile alle quotazioni a cui tu vorresti entrare, e quindi vai a manipolare il prezzo e ti fai autogol perché ti crei una mediazione verso l'altro e quindi un prezzo meno di acquisto super esagerato. E quindi c'è questa problematica qui, guardiamo anche la total supply che è questa linea grigia, quella blu è la parte illiquida e quella arancione è la parte illiquida. Guardate che cross, che incrocio, sta crollando la supply illiquida, sta andando a dismisura su quella illiquida e quindi sono tutti quanti grafici che confermano il fatto che non ci sono bitcoin per tutti. Io mi ricordo addirittura delle affermazioni incredibili un paio d'anni fa, di personaggi importanti, di qualcuno che aveva teorizzato che ci sarebbero state due categorie di persone al mondo, la categoria dei ricchi, la categoria di coloro che hanno approfittato di bitcoin e invece dall'altra tutti quanti quelli che non hanno partecipato a questa festa. Ovviamente ve lo ripeto per l'ennesima volta, adesso non pensate ad occhi chiusi di tuffarvi, di acquistare un bitcoin, di fare subito linee con 30.000, 100.000 e pensate di diventare ricchi. Magari vi capita pure che in un anno triplicarete il vostro investimento, ma dall'altra se poi accade qualcosa e abbiamo visto quello che può fare bitcoin, no? E vi fa meno 50%, io non ne voglio sapere niente, non scrivetelo nemmeno nei commenti. Cioè, dovete prendere in considerazione questa eventualità, quindi una volta che sapete gestire il tutto anche dal punto di vista emotivo e avete la vostra pianificazione per prendere profitto, per uscirne, per prendere una stop, insomma, quando veramente siete consci al 100% di cosa fare, allora prendete la vostra decisione definitiva. Ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, io vi do appuntamento a prestissimo, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, sostenetemi, io quest'anno voglio a tutti i costi arrivare a 15.000 iscritti, è il mio grande target. Un bel pollicione all'insù per sostenere questo video, io credo che insomma tutti quanti coloro che sono attratti da bitcoin possono avere avuto informazioni utili, quindi facciamo lavorare l'algoritmo di youtube per far trovare questo video su bitcoin, io vi do appuntamento a prestissimo, vi auguro degli ottimi investimenti, ciao!